Gli uomini con la barba sono preferiti dalle donne. È un argomento quello che vado a trattare oggi, che probabilmente potrà creare una certa curiosità, azzardo a dire una curiosità morbosa, in chi è iscritto a questo canale di YouTube. E concio che molti avranno, o meglio proveranno, una grande curiosità, ecco che mi metto nella condizione di andare a fornire una valida spiegazione ai presenti del fatto che, in concreto e non in astratto, le donne, non dico tutte, ma la maggior parte, preferiscono l'uomo con la barba. Attenzione, la barba, non sto alludendo ai baffi, ok? Io non sto dicendo che le donne preferiscono i baffi alla barba. Io però sto dicendo che le donne, non dico tutte, ma, ripeto, la maggior parte, dovendo scegliere tra quello senza barba e quello con la barba, molto probabilmente andranno a scegliere l'uomo con la barba, va bene? E qualcuno, ovviamente, potrebbe, ah, si può chiedermi, ma perché? Ma per quale motivo, ma per quale ragione, secondo te, carissimo Leandro, alias conoscitore italiano, le donne, non tutte, ma la maggior parte, preferirebbero, a tuo dire, l'uomo con la barba rispetto all'uomo senza la barba? La risposta che do, che fornisco, è una risposta che deve essere data prendendo un po' di tempo, cioè devo essere chiaro con voi, non voglio essere troppo sintetico, quindi mi prenderò anche più minuti. E questo riguarda il fatto che l'uomo con la barba rappresenta il maschio, rappresenta una mascolinità più efficace, più profonda rispetto all'uomo senza la barba. L'uomo senza barba, sì, può piacere, può trasmettere, può soddisfare, diciamo così, il canone estetico di una ragazza, di una donna, ma è proprio la barba che, di fatto, va a dare lustro e va a dare maggiore mascolinità al maschio, all'uomo, che dir si voglia. La barba vista come elemento di arricchimento, di abbellimento, di ornamento dell'uomo italiano italico, va bene? Ora, ci sono uomini che hanno la barba, altri uomini che non ce l'hanno, e proprio quelli che in genere hanno la barba sono fidanzati rispetto a quelli che non ce l'hanno. Ecco, il canone estetico femminile va a preferire, di fatto, proprio l'uomo, il maschio, il tizio, con la barba. Rappresenta nell'ideale, nell'immaginario collettivo femminile, un segno di mascolinità, un segno di sensualità, è un accessorio che viene effettivamente notato dalle donne e dalle ragazze d'Italia. Ovviamente, ripeto, che non tutte le donne italiane e non vogliono l'uomo con la barba, però, se c'è, è meglio, perché rappresenta, idealmente parlando, un valore in più, un valore aggiunto, inoltre, è un modo per abbellire un maschio, un uomo, ok? Quindi non sono tanto i baffi che piacciono alle donne, quelle contemporanee, quelle di oggi, quelle moderne, quanto la barba. La barba come elemento di arricchimento, come elemento di rafforzo all'identità maschile, alla mascolinità, va bene? Quindi il mio consiglio, fatevi crescere le barbe, questo è il consiglio che mi sento di darvi, va bene? Poi, vi dico un'altra cosa, ed è che la barba non deve essere folta, cioè non deve essere troppa, deve essere, però, una barba curata, non troppo lunga, quindi media, di media dimensione, di media taglia, ma soprattutto curata. Non deve essere una barba folta, quindi lunga, e disordinata. La donna preferirà di gran lunga un uomo con una barba, con una bella barba, ma curata, non troppo lunga, non troppo folta, giusta, di altezza, di grandezza, ok? Detto ciò, io ringrazio, in primis, chi ha visto, o meglio, chi ha ascoltato questo video di oggi, e in secondis, chi lo ha visto, chi lo ha visualizzato. Datemi le vostre opinioni, fornitemi i vostri giudizi, mi raccomando, ci tengo ad averli, iscrivetevi a questo canale di YouTube, il canale di Conoscitore Italiano, che sono io, Leandro, e fornitemi i vostri, ripeto, giudizi, i vostri pareri. Grazie, un cordiale salutone a voi, una buona giornata, una buona serata, e al prossimo video.